In questo avvincente episodio di Terra Amara, ci immergiamo in una trama intricata, dove ogni decisione porta con sé il suo fardello. Seguiamo Fekli e Lutfi e nel loro viaggio a Mersin, dove affrontano una scelta destinata a cambiare il corso delle loro vite per sempre. Scopriremo come Fekli si troverà di fronte a un dilemma morale, mettendo alla prova la sua integrità e il suo amore per la famiglia. Nel frattempo, Demir si ritrova intrappolato in una situazione disperata, circondato da ricatti e segreti. La sua lotta per proteggere se stesso e i suoi cari lo costringerà a fare scelte che potrebbero mettere a rischio tutto ciò che ha costruito. Quando Umit fa un'improvvisa comparsa alla villa, le tensioni raggiungono il culmine, portando a scontri e rivelazioni inaspettate. Prima di proseguire, vorremmo chiederti un piccolo favore. Se ancora non lo hai fatto, ti invitiamo ad iscriverti al nostro canale e ad attivare la campanella delle notifiche. Questo semplice gesto è gratuito e ci sosterrà mentre tu sarai tra i primi a ricevere i nostri nuovi video dedicati alle sopopera e alle serie tv del momento. La tua partecipazione è fondamentale per aiutarci a crescere e a investire in nuovi contenuti che sappiamo piacerti. Grazie di cuore, e ora continuiamo con il video. Zuleya e Gaffur riportano Kumali alla villa. Uzum appena lo vede le corre incontro chiamandolo papà e gli chiede come sta. Lui le risponde di stare bene e l'abbraccia. Zuleya chiede a Kumali, Sanie e Gaffur di entrare in casa con lei. La scena si apre con un'atmosfera carica di tensione, mentre Zuleya interroga sinceramente Kumali sulla sua storia. Le rivelazioni di Kumali portano a una complicazione della situazione, con Sanie che entra in scena esprimendo preoccupazione per Uzum. Kumali, con umiltà e disperazione, ammette il desiderio di riavere sua figlia, ma riconosce anche la sua incapacità di prendersene cura a causa della sua povertà. Esprime gratitudine per coloro che si sono presi cura di Uzum durante la sua assenza. In un altro sviluppo emozionante, Batyar annuncia che Keremali ha mostrato miglioramenti nella sua salute, portando sollievo e gioia tra i personaggi. La trama si sposta su Fekli, coinvolto in una discussione intensa sulla custodia del bambino e preparandosi per un viaggio a Mersin, con l'inaspettato accompagnamento di Cetin. Infine, la storia si concentra su Demir, nella villa con Shermin e Betul, riflettendo sui momenti passati con Sevda e sull'emozione tumultuosa che sta attraversando dopo la sua morte. Fekli, immerso nei suoi pensieri, percorre una desolata strada deserta. Distolto da un tumulto di emozioni, in un attimo di tragica disattenzione fa sì che la sua auto in vesta un uomo. Il cuore di Fekli si ferma, travolto dal terrore e dalla preoccupazione. Scende dall'auto sperando di poter fare qualcosa, ma la realtà è implacabile, l'uomo è già deceduto. Nel panico, Fekli insiste per chiamare la polizia e un'ambulanza, ma Cetin, con determinazione, suggerisce di assumersi la colpa al suo posto, temendo le conseguenze disastrose per la famiglia, soprattutto per Kerem Ali e Fikret, se Fekli finisse in prigione. Nel frattempo, la trama si sposta su una discussione intensa tra Zuleia, Shermine e Betul. Betul, con sospetto, suggerisce un'indagine più approfondita sulle affermazioni di Kumali, temendo che possa essere un impostore. Zuleia, con un sorriso indulgente, la rimprovera. Ma Betul persiste sottolineando le incertezze legate al passato carcerario di Kumali e alla mancanza di ricordi di Uzum. Questa conversazione porta Zuleia a riflettere sulla situazione, ammettendo che Betul potrebbe avere ragione. La discussione si sposta sugli affari aziendali, dove Betul dimostra notevole competenza ed intuizione. Colpita dal suo talento, Zuleia la invita a collaborare più attivamente, aprendo la strada a un ruolo di maggior rilievo. Il silenzio avvolge la villa quando Gulten arriva. Zuleia, preoccupata, le chiede di Adnan. Gulten risponde che è andato a giocare con Uzum nel garage, generando ansia in Demir. La tensione aumenta mentre Demir, spinto dalla preoccupazione, si dirige verso il garage. Zuleia nota una macchia scura sotto l'auto, sangue. Demir, cercando di mantenere la calma, suggerisce che potrebbe essere stato un lavoratore a ferirsi, ma Zuleia, non del tutto convinta, decide di andarsene, lasciando Demir solo con i suoi pensieri. Appena Zuleia esce, Demir apre il bagagliaio dell'auto, confrontandosi con il corpo senza vita di Sevda. L'orrore lo colpisce e, sopraffatto dal disgusto, si ritrova a pulire il sangue. Ricordi dolorosi lo assalgono, la sua decisione di occuparsi del corpo per salvare Umit dalla prigione, un gesto estremo di lealtà e disperazione. Nel frattempo, Cetin si presenta al comando di polizia per denunciare l'incidente, consegnandosi come responsabile in un gesto di sacrificio, che sconvolge l'equilibrio della situazione. Le autorità e un'ambulanza giungono sul luogo per rimuovere il cadavere. Fekli, appresa la notizia, si precipita a vedere Cetin, incapace di credere che si sia assunto la colpa nonostante i suoi tentativi di dissuaderlo. Cetin, però, rimane fermo nella sua decisione di sacrificarsi per Fekli e Kerem Ali. Tornando alla villa, Zuleyha e Demir entrano in una stanza avvolta nel silenzio. Osservando Demir perso nei suoi pensieri, Zuleyha gli chiede se la sua preoccupazione sia legata al tradimento di Sevda. Cerca di incoraggiarlo e gli suggerisce di riposarsi, ma Demir, con la mente ancora turbata dagli eventi recenti, insiste nel dover andare in azienda. Zuleyha, preoccupata, nota che è molto tardi e lo esorta a rimanere, ma Demir è irremovibile. Mentre si allontana, Zuleyha, con un sospetto crescente, gli chiede se le stia nascondendo qualcosa. Demir nega, ma il peso dei segreti che porta dentro è evidente nel suo sguardo sfuggente e nella sua voce tremante. Demir si avvicina alla sua auto, il cuore pesante e la mente in tumulto. Ha un compito difficile da compiere, deve dirigersi verso un bosco isolato per nascondere un segreto che potrebbe distruggere tutto ciò che ama. Mentre si prepara a estrarre il corpo dal bagagliaio, un uomo emerge improvvisamente dall'oscurità. La loro interazione è educata, ma sotto la facciata di cortesia si avverte una tensione palpabile. Demir, percependo il pericolo nell'atmosfera, fa saggiamente la scelta di distanziarsi da quella situazione incerta. Mentre guida lungo la strada buia, il destino sembra giocare con lui, e improvvisamente compare un posto di blocco, quasi come un presagio inquietante. I poliziotti, con tono autoritario, richiedono di ispezionare il bagagliaio. Cosa succederà adesso? Demir, aprirà il bagagliaio per l'ispezione da parte delle guardie? E, scoperto il corpo di Sevda, vedremo Demir tornare in carcere, ancora una volta da innocente? Grazie Grazie